ciao allora questo è il trucco per il concorso indetto da paola p make up il prodotto che uso il loro prodotto che uso che è l'unico che ho è il lash estender e mi fa delle ciglia favolose non so se si possono notare se si apprezzano e adesso mi sa che c'è troppa luce e quindi lo vedete un po un po troppo forte come trucco vediamo un attimo ecco così vabbè forte comunque niente ho messo anche un po di accessori questo bindi qui me lo sono fatto da sola poi vedete come l'ho fatto e niente questa è la mia partecipazione spero vi piaccia non è assolutamente un tutorial un tutorial perché insomma vedrete che dicevo con il mascara mi succede di tutto e basta ciao 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 ciao